Il saldo del 110 avviene a lavori finiti o a collaudo? L'ultimo allo stato avanzamento di lavori finale avviene per lavori finiti e direi lavori terminati che il direttore lavori va a certificare come fine lavori. Tendenzialmente vanno di pari passo al collaudo, cioè un direttore lavori dà la fine lavori quando si arriva al 100% delle lavorazioni e quando è tutto funzionante. Per quanto riguarda la cessione del credito, anche in quel caso se tu sei un'impresa, fai lo sconto in fattura e vai a cedere il tuo credito ad esempio a una banca, la banca stessa ti chiede la fine lavori, la dichiarazione di fine lavori, quindi il direttore lavori è lui che allega poi la fine lavori ufficiale. Per quanto riguarda il collaudo, principalmente si parla di o collaudo statico per quanto riguarda le strutture, ci può essere anche un collaudo amministrativo ma in caso di lavori pubblici, mentre invece per quanto riguarda la parte impiantistica si può fare un collaudo degli impianti, sono comunque sufficienti per i lavori privati le dichiarazioni di conformità che certificano che da parte dell'installatore che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte dall'installatore e dal direttore tecnico dell'impresa installatrice. Allora